Finisce 3-2 l'amichevole di Ospitaletto tra il Brescia ed il Frosinone. Ai giallazzurri non bastano le reti di Trotta e Vitale, vincono i padroni di casa grazie ad uno scatenato Balotelli. Nell'undici di partenza Nesta sceglie Zampano e Capuano in difesa, in mezzo al campo c'è As con Maiello e Paganini, davanti il tridente Trotta, Dionisi e Novakovic. Al ventiseiesimo il vantaggio del Brescia porta la firma di Balotelli che di testa trafigge Bardi e porta avanti i padroni di casa. Il Frosinone prova a reagire ma in contropiede arriva il bis delle rondinelle, assist di Balotelli e da solo perfetto di Romulo che salta Bardi in uscita e segna il gol che vale il 2-0. Ad inizio riprese i giallazzurri di Alessandro Nesta accorciano le distanze, in mischia è decisivo il tocco sotto misura di Trotta. Ancora Balotelli protagonista nel terzo gol del Brescia, la punizione di Super Mario si stampa sul palo, arriva Bisoli che in corsa ed a porta vuota segna il gol del 3-1. Al novantesimo la bomba dalla distanza di Vitale, direttamente su calcio da fermo, vale il gol del definitivo 3-2.